Bartolini, mi aiuti lei, qui sotto è tutto morto, tutto morto. Si mette a pene, adesso controlliamo, le do una buona guardata. Ci penso io. Guardi lei dottore. Un attimino che ci prepariamo. Stia calmo e comodo. Stia calma, comodissima, rilassata sopra tutto. Allora. Mi dica dottore Grate? Aspetti. Allora, abbiamo la diagnosi. Mi dica se stai non mi faccio stare in mezzo. Lei ha un classico caso di vagina depressa. Oh mio caro, adoro. No, lei mi è fortunata perché da oggi ci sono due compresse di pressa allegra. Così non stai notisce neanche più. Oh mio caro. Grazie.